È stato presentato in Comune un progetto preliminare per la trasformazione dell'I45 in autostrada nella quale è stato dato parere favorevole anche da parte dell'amministrazione comunale e quindi si va più velocemente rispetto a quello che magari erano le previsioni quando si è adottato il piano perché verrà realizzato il progetto financing e quindi ovviamente in questo progetto preliminare si prevede di andare alla canterabilizzazione dell'autostrada in 5 anni e poi si prevedono 5 anni per la realizzazione degli interventi. Questo progetto, ormai questo fatto che diventi autostrada è assodato, che da nessuno viene più messo in discussione come era stato fatto qualche tempo fa e quindi si tratta di risolvere alcune questioni che riguardano il traffico cittadino di tutta l'Alta Valle del Tevere perché ovviamente in fase di realizzazione dell'autostrada dovranno essere comunque ridotte le corsie di marcia e quindi il traffico soprattutto locale ma probabilmente per qualche periodo anche non solo quello locale dovrà essere trasferito sulla viabilità secondaria. E quindi è necessario creare un'alternativa all'A45 che io ho più volte sollecitato ma che ancora anche nell'adozione del piano strutturale non è stata prevista. L'idea che io mi sono fatta è quella di o creare una parallela all'A45 ma in alcuni punti diventa difficilmente realizzabile per le abitazioni che ci sono centri abitati e industriali che ci sono nelle vicinanze oppure la soluzione che secondo me è più opportuna è quella di collegare le varie zone industriali dei comuni di Sansepolcro, di Citerna, di San Giustino e di Città di Castello attraverso l'adeguamento di una strada che praticamente già esiste che dovrà essere adeguata sia nella larghezza che in alcuni tratti anche nel percorso ma che può collegare la zona industriale nostra di Gricignano con la rotonda che è stata fatta recentemente a Pistrino e da lì si può proseguire verso lo svincolo di San Giustino o proseguire ulteriormente per andare allo svincolo di Selci e dallo svincolo di Selci proseguire per la zona industriale di Città di Castello. Io credo che questo può essere un corridoio che serva soprattutto per il traffico pesante perché non possiamo pensare di portare il traffico pesante come è previsto attualmente nel piano strutturale in via Bartolomeo della Gatta perché ovviamente si va nel centro abitato di Sansepolcro quindi dovremo trovare una strada alternativa io credo questa può essere l'ipotesi più credibile. Ma se al momento dell'adozione del piano queste ipotesi non sono state contemplate adesso siamo nella fase delle osservazioni che cosa proporrete all'amministrazione comunale? Sì, noi abbiamo già presentato come viva Sansepolcro delle osservazioni che vanno proprio in questa direzione però occorre muoversi perché ovviamente non conta solo Sansepolcro perché Sansepolcro può dare delle indicazioni ma queste indicazioni devono essere concordate con gli altri comuni della vallata quindi in questa fase di osservazioni dovranno essere concordate con i comuni di Citerna, di San Giustino e di Città di Castello un percorso che segua le indicazioni che avevo dato io o comunque altre soluzioni che possono essere trovate per poter andare all'ANAS in fase di realizzazione dell'autostrada a chiedere anche la realizzazione di questo percorso alternativo perché se non abbiamo un percorso alternativo ovviamente è già concordato ovviamente poi ci sono sempre i soliti problemi di ritardi perché magari le amministrazioni comunali come è successo sull'AE78 non sono in grado di dare un percorso definitivo quindi questa cosa va fatta almeno per quanto riguarda Sansepolcro dovrebbe essere fatta in questa fase di approvazione del piano strutturale e delle osservazioni